Olivia Taylor Luccardi, attrice americana star di serie Netflix Sky di successo, è stata violentata da un tassista abusivo di origine siriana durante quella che doveva essere una vacanza a Roma, ma che si è trasformata in un incubo per la 29enne di origini italiane. L'abusivo 47enne è stato accusato dal pubblico ministero Silvia Santucci del reato di violenza sessuale ed è stato rinviato ieri a giudizio, il processo comincerà a ottobre. La violenza si è consumata lo scorso 28 dicembre, al termine di una serata passata da Olivia Taylor Lucchetti con le amiche nel quartiere Testaccio. Il siriano si è offerto di riaccompagnare a casa la comitiva, ma quando l'attrice è rimasta sola con lui è scattata la violenza, un bacio sulla guancia, poi uno sulla bocca che mi hanno terrorizzata. La giovane donna è riuscita a divincolarsi e scappare prima che fosse troppo tardi. Soddisfatto il ramo italiano della famiglia Lucchetti, il rinvio a giudizio è cosa buona e giusta, ha detto lo zio di Olivia, specificando che la richiesta di risarcimento è un qualcosa di puramente simbolico, l'auspicio è che nulla del genere possa accadere ad altre donne da parte dalla 500 alla 1 questo individuo. E chiude con una chiosa amara, mi chiedo cosa sarebbe successo ad un occidentale che avesse fatto la stessa cosa ad una donna siriana.